sono tanto stanco ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di un po' di tutto cioè il nostro canale io come sempre sono MrL e sono qui in compagnia di eh lo sapete già esatto, i Krizz ho sempre la tosse quando sono qui e ragazzi nello scorso video i Krizz in ambiente 2 ma io alla terza non dico di averlo arato ma proprio mi ti trebbia proprio ti ho distrutto ho fatto senza subire dane e la terza è la quinta volta in fila che capita la stessa mano no basta con questa stanza ma mi porta sfiga questa spazio a me non ho neanche visto ok sì sì in questa stanza mi porta sfiga non so perché ma anche perché fa schifo ok quindi vediamo un po' ok guarda c'è sempre una mossa che va bene con ogni personaggio io non ho proprio voglia di giocare toto ammattami ahia maledizione io sono nello alla prossima ne metto io il cu aspetta un attimo bastardo bastardo un attimo un attimo fermo che mi sto bene no un attimo togli coso ho quasi staccato di tutte i Krizz di nuovo come quella volta del guscino no 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 ok mi ha detto il prossimo rambo che si è perso non so cosa ho fatto è stato inutile no no che pare detto no no cazzo così impari a spammare perco di merda non lo so usare questo tipo qua vieni fuori ti sparo un motore come fai a fare quelle mosse cosa devi premere ti sparo un semappolo come fai spara sotto cazzo le xbox sono fatte di nicker che e ci giocava anche poi la copriva con un telo la notte usava a 360 lui la che che era tipo dopo alla garanzia dopo tre anni si spacca ma poi è una garanzia ora ti rompo le palle letteralmente letteralmente che merce no non camminerà più per un mese questo paletto e no 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 si è alzato si si alza ma non cammina eh eh ok si è alzato ah bellissima ragazzi guardate qua ah questo qua smasher guardate che schifo guardate guardate adesso aspettiamo un po' che guardate leggete i commenti leggete tipo i personaggi fatali tirano relax il goro che scrive solo goro eh ah ok bellissima sonia no ba ho visto abbastanza si nessuno indignato ah no eh è la sua ragazza no no e è un'altra banana takeda banana si è quello che ah che cazzo che cazzo aspetta quello che ha scritto takeda banana è quello che ho appena ammazzato oh ma che che ma che è un universo parallelo questo probabile chissà ma che mica è c'è quelli che appena ucciso risuscitano per commentare i tuoi dai fammi capitare il cinese ma proprio da schiaffi il cinese voglio il cinese e io lo so usare bene ci spagna bene ah ho quella la che ti fa il flash quella la il fucile a pompa che è tipo un flash no 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 non il fucile a pompa ancora no 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 aspetta aspetta tu quale che avevi preso avevi preso subzero io ho preso l'altra no io mi sono mi sono rotto i coglioni sai cosa vi dico ma vaffanculo ne scegliamo altri tu quale che hai scelto io avevo scelto subzero bene prendilo dove cazzo è sopra è qui è che variate era e vabbè cambiamo cambiamo cosa giusto per cambiare un po e variate non è solo senti senti giusto per cambiare un po' skin perchè ha rotto i coglioni no io ho ok voglio che era lì bella la fossa mi facciamo tre fossa eh nuova c'è nuovissimo non lo so da quant'è che è un giorno sto gioco nel senso che è una patch si è venuto fuori con Mortal Kombat xl forse xl xxl è un i tuoi potenziamenti non sono natura è un DLC che io non compro campero campero ma poi ti faccio il flash la cosa ti lancio le lanterne ma bro era un dyne quella lì che di Undertake che spara le lance di energetiche oddio che figata oddio oddio la tua botte vuoi tirare la mia di tre pugni si 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 ok no ma che cinque no va bu cosa ha fatto è sparato muori vabbè dai l'ho perso perché perchè sto qua ti era sparato all'aria io non sono natura io non sono natura ok guarda qui dietro che no e no 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 io l'ho preso l'ho preso 60 volte se questa lanterne ma maledizione ai 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 no stai tu non lo sai perchè sei ignorante perchè non giochi a scuola eh sai com'è io si io sono ogni giorno a casa tua ah ho capito va avanti di scatto pirra che sta scappando camminando dai cazzo e vaffanculo anche te hai dato a spada del cazzo spada di gasoli come si chiamano i pingula come si chiamano i polaretti polaretti uso un polaretti con il firmino arma contundente si fai i gelati dai fai sta cosa voglio fare le battute sinistra giù sinistra eh sinistra destra giù sinistra quindi non comprati polaretti possono trasformarsi in spade sono fatti da lui col sangue possono trasformarsi in le spade ommicidio con polaretti che cos'è rapina come si chiama aggressione a mano armata con polaretto come si diceva aggressione impresterata con polaretto arrestato dammi tutti i tuoi soldi dai un altro non ti colpirò con questo polaretti al limone aspetta ah di nuovo questo daaaah c***o queste visioni qua si chiameranno polaretti non lo so però qualcosa per attirare persone, spieghiamo scandalo, scandalo che chi te ragazzi noi ci siamo resi con la che youtuber strà corrotto e perciò molti youtuber con tantissimi iscritti tipo mettono titoli che non c'entrano niente con il gameplay in modo da sembrare importanti e fa sembrare gameplay fighe, importanti ma è tasso solo il gameplay del cazzo, ed è che è un testo sull'accento beh ok ne so ma va, tu l'ho già perso e ho premuto triangolo un'ora prima che tu arrivasi un'ora prima che la partita cominciasse puoi smettir? no! basta! muori maledetto cazzo ma l'ho già perso forse spammando è proprio per te guardate ora gli spammo no! 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 colpirmi anche tre volte si no! e veramente guardate che vi ho imparato ok bene e colpisce mi anche quando sono su marte va bene 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 no! e noi in classe una volta gli hanno detto avete l'attenzione dei criceti vaffanculo muori no! io ho proprio gli schiavi che venivano da sotto e lo prendono proprio è scandaloso è scandaloso no un po' l'aretto e io va a far pure ok questa questa che è piuttosto brutale eh 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 questa è piuttosto brutale quindi se siete sensibili no seriamente ma tutto un cuore verde oh mio dio oh mio dio vabbè perfettamente a metà un cervello verde beh è un un cazzo si chiama un serpente con le mani un serpente con gambe e braccia cosa vuoi che sia che parla e ma dove tirano fuori dei dei già quasi non dalla loro testa c'è soprattutto un pelato con la testa a forma di uovo che è sciolto tutti con un pugno non voglio non voglio non voglio fare nomi perché lo conosciamo tutti forse abbiamo già citato aspetta un secondo quanto siamo non lo so non in caso abbiamo finito il tempo ci vediamo nel prossimo video e ragazzi è scandaloso che lui con con perché avermi è scandaloso questo video scandaloso no 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 un polaretto sto episodio polaretto di fuoco con il video a caso non comprateli no son buoni si vabbè ma potete uccidere qualcuno con questi si vabbè abbiamo fatto un episodio di battute sepolaretti ma guarda neanche a sponsorizzarli madonna neanche ci spagassero vabbè comunque ci vediamo al prossimo video ciao ciao